E arrivano così, a divertirsi sulla pista, io vi dico che l'ottomitore di San Bernardini ciò è War Machine, mentre guardate loro pensate anche alla War Machine alle voce siete il nome Tirolino Springfield, quelli che metteranno le tassi, quelli che chiedono le tassi loro hanno giochi di guerra a casa, t-shirt americane, War Machine e loro prendono, e l'ottomitore di San Bernardini, che hanno giochi di guerra, War Machine